Infatti siamo qui proprio per presentare il nostro progetto che è un'app solidale. L'ANF nasce nel 2015, che è importantissimo dirlo, è stata finanziata attraverso un progetto della Regione Puglia. La creatività dei giovani può essere sfruttata. La creatività sociale 3.0, a cui abbiamo partecipato. La Commissione Nazionale Famiglie, con il Presidente, che ovviamente si dimostra sempre disponibile a quelle che sono le nostre richieste, e accompagnano tutti quelli che sono i nostri... Abbiamo cosi con Pignatelli, dove sei, eccolo lì. Dopodiché si apriva un profilo, che secondo me... Stiamo parlando di passi di questa crociera, per chi ha avuto l'opportunità di fare una crociera.